io spero anna che tu vedrai bene i passaggi per adesso abbiamo fatto una specie di perro appunto cordoncino e abbiamo le prime trame lasciate in sospese che sono queste qua dell'inizio queste per adesso io le lascio sempre in sospeso poi andiamo a farci visto che ci troviamo in questa posizione andiamo a farci questo vado in questa trama a prenderne un po' non tirando molto affinché mi venga ben squadrato poi mi vado a infilare qui a centro e poi ritorno sempre nello stesso punto mannaggia alla vista troverete sicuramente qualche imperfezione ecco il filo un po' si è frantumato allora che è successo qui eccoci qua e riprendiamo a fare la barretta a cordoncino questo naturalmente dovrà essere fatto per tutti e tre i lati appena arrivo qui mi interseco sotto vedi e mi faccio anche questa diritta da questo lato così così il quadrato mi viene bello abbastanza preciso dovrebbe venire vedremo perché la visuale dei quadrati a me ultimamente non mi risulta molto con la maculopatia allora qui io lo prendo a centro così mantengo tutte le trame voi capirete il mio disagio solo quando vedrete pure la foto che posterò è tutto un metodo mio questo di questa registrazione lo dovrò fare brevettare allora capirete bu allora ora mi vado il filo quando si trova in questa posizione poi vi finisce qui ma deve concentrarsi sempre al centro quindi io prendo un'altra barrettina barrettina qui così e continuo a imbottire questa barretta fino al centro tutto il lavoro delle barrettine deve congiungersi al centro ricordatevi sempre che abbiamo lasciato la prima in sospeso da finire che poi vi farò vedere perché ora vedrete abbiamo un'altra barretta da fare da qui a qui e da qui a qui questa io la inizio così guardate mi metto al centro e vado qui sempre afferrandomi allora abbiamo in questo minuto vedete il filo qui se lo metto qua succede quello che non deve succedere quindi questo filo va prima passato dal dietro in quest'altra barretta poi passato al centro qui ok si vede bene e poi preso a centro qui allora riprendiamo io mi aggancio sempre al centro come avete visto e adesso riprendo le travettine non non ho lasciato passare nessun passaggio di questo ragnetto facendolo tutto completo affinché voi possiate vedere tutti i modi di come intersecare il filo a cordoncino dentro queste barrette ora dobbiamo arrivare a fare quest'altro linea qui io ci vado dal di sotto e mi vado a ferrare a questa a questa centrale qui si vede spero di si e riprendiamo a centro qui potete prendere anche un po' di più al centro per agganciarvi meglio se vi viene meglio io mi giro sempre il telaio sarà spero che nel frattempo la telecamera non sfochi allora e riprendiamo una volta capito il metodo anche se vedete un po' suocato non ha importanza sarà noioso per chi già lo sa fare ma chi diciamo vuole impararlo guarderà per bene tutti i passaggi allora allora adesso siamo con tutti i passaggi fatti abbiamo lasciato questo che è l'inizio questo verrà finito l'ultima l'ultima volta vi faccio vedere il ragnetto io mi trovo qui in questa posizione quindi faccio vado sotto con la punta del lago e faccio il primo giro il primo giro uno sotto e uno sopra uno sotto e uno sopra girando attorno a questi qua vedete uno sotto e uno sopra e tirate un po' affinché il rotondo vi viene ora arrivati qua già vi viene lo stesso verso di prima quindi siccome il ragnetto deve girare rotondo ma non sembra lo stesso modo arrivando qui io ritorno indietro dove era sopra diventa sotto e il primo punto lo dovete e dove al contrario l'occhio stesso vi farà vedere quello che mannaggia qui ci vorrebbe l'aiuto di qualcuno ecco siamo arrivati di nuovo allo stesso punto adesso naturalmente abbiamo questo che è sopra e questo è sotto quindi noi dobbiamo fare aspettate che qui ho preso una trama quindi dobbiamo fare questo diventarlo sotto e per farlo diventare sotto bisogna fare sopra questo guardate non possiamo farlo così perché viene pure sopra quindi andiamo al contrario adesso e c'è io me lo giro così visto che devo fare al contrario al senso anti-orario siamo qui e giro così guardate bene i passaggi questo è sopra non vi posso far allargare la telecamera quindi questo deve diventare sotto a girare a girare si arriva sempre nel punto dove abbiamo lasciato la sticella questa qui adesso faccio un altro giro perché già siamo abbastanza quindi arrivo qui e vado di nuovo indietro in questo modo a girare a girare a girare non essendo libera nei movimenti allora ora siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo ragnato allora come vi dicevo questo ultimo passaggio lo voglio riprendere perché forse l'occhio non mi ha fatto vedere che lo avevo saltato quindi vado indietro e chiudo un po' questo rotondetto adesso se vogliamo finire il ragnetto basta arrivare dove abbiamo lasciato le trame qui e si continuano queste quattro trame gettate che abbiamo lasciato in sospeso questo è il semplice ragnetto che si può fare anche a quattro solo passaggi io l'ho voluto fare completo perché il buco era grande e l'ho voluto fare completo dopodiché quando vi trovate in questo punto come vi ho già spiegato prima vi andate a infilare sotto nella travetta e imbastite vedete non si vede nulla perché l'ago non si scuce ecco qui questo è il ragnetto grazie a tutti